Ben ritrovati i tifosi Rosanero da Storo, prosegue in ritiro per il campionato del Palermo, terz'ultimo giorno di allenamenti qui in Trentino per la squadra di Iachini. Oggi una seduta pomeridiana dopo il test contro l'Alcorro e Rosanero hanno svolto esercitazioni di carattere tattico, lavoro atletico e hanno poi chiuso la seduta con delle partitelle in porzione ridotta del campo. Francesco Bolzoni si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti e ha svolto allenamento differenziato terapie anche per Michelle Morganella, domani i Rosanero sosterranno una doppia seduta.